Professoressa Colletta, buonasera, saluti, bentrovata, è un piacere averla qua, soprattutto voi siete il rappresentante culturale, il rappresentante scientifico della gestiera amatitana, ci sono svolte una serie di relazioni in cui sono comparse una serie di relatori internazionali, tra cui anche delle persone che non apportavano un contributo diretto in qualità di contadini o di professori di questa relazione. È un piacere e quindi un complimento per la vostra relazione di come lo avete affrontato e presentato, ma voglio sentire ancora da voi direttamente che cosa ne pensate di questo nuovo internazamento. Penso che anche visti oggi queste ottime relazioni a confronto e quindi la costiera amatitana ha un'universo di San Romano, cioè effettivamente i paesaggi della costiera amatitana sono l'unico. Siamo in grado di sentirci a un tavolo internazionale con le gitae? Sì, come penso, superiore dal punto di vista del valore paese di tutti.